Sono Danilo Leone, docente di metodologia della ricerca archeologica e di archeologia subacquea all'Università di Foggia. Ci troviamo a Torre Santa Sabina. In questo momento abbiamo iniziato l'indagine del relitto di III-IV secolo d.C. Dopo una prima fase che ci ha visto impegnati nell'asportazione dei blocchi di cemento di protezione del relitto, finalmente siamo passati alla fase successiva, all'indagine vera e propria, all'asportazione dei depositi di sabbia e di pietre che coprono gran parte del relitto. Al momento sono impegnate due squadre, due coppie di archeologi che hanno iniziato a sorbonare l'interno del relitto e subito dopo cominceranno a intervenire i funzionari dell'ICR, dell'Istituto Centrale del Restauro per i primi interventi di contenimento e di salvaguardia del fasciame. Grazie a tutti.